Giovedì 9 luglio il Consiglio Comunale discuterà a Gubbio la possibile introduzione della tassa di soggiorno, un provvedimento voluto dall'amministrazione comunale che non ha però incontrato il favore degli albergatori che sulla questione promettono guerra. Non sono ancora chiari i dettagli di questa tassa di soggiorno, i modi della sua applicazione sono stati oggetto oggi di una discussione in sede di Commissione Consiliare, ma è certo che in media sarà di un euro al giorno, le strutture ricettive pagheranno più o meno, in base al loro livello, per un numero massimo di giorni da stabilire. I turisti che verranno a Gubbio già da questo 2015, oltre al costo dell'albergo, dell'agriturismo e consimili, dovranno versare anche questa quota che si calcola su base individuale, a meno che l'albergatore non decida di accollarsene l'onere. Un passaggio obbligato, secondo il sindaco Filippo Stirati, per reperire soldi da spendere sul fronte della promozione turistica, seguendo esperienze simili, varate o al vaglio, anche in altre città dell'Umbria e d'Italia. La tassa di soggiorno, diciamo così, è in termini di principio generale un piccolo contributo che il visitatore fornisce in relazione ai servizi che riceve dalla città che va a visitare. Per quello che ci riguarda è un modo per far rispettare questo principio e al tempo stesso riversare quanto viene percepito dall'amministrazione in promozione turistica. Le garanzie date dall'amministrazione comunale sul fatto che i proventi della tassa di soggiorno saranno spesi solo in promozione turistica non convincono gli albergatori, che già nei giorni scorsi erano usciti pubblicamente allo scoperto con un secco no alla tassa dichiarato da un manifesto affisso in città. Conf Commercio, Conf Industria Alberghi, Federalberghi e persino CIA la ritengono una tassa iniqua, perché di fatto è pagata solo dalle strutture ricettive, essendo calcolata sulle notti trascorse a Gubbio e non da altri settori, come bar, ristoratori e negozi. Ma anche su questo punto il primo cittadino ribatte con forza, perché se la tassa di soggiorno è una forma di contribuzione che ora pagherà solo l'albergatore, a seguire ci potrebbero essere anche altre forme che chiameranno in causa altri settori dell'economia turistica. Noi chiamiamo tutti gli operatori, tutti i settori che direttamente o indirettamente ricevono benefici dalle politiche turistiche a dare un contributo che nel caso degli albergatori può essere collegato appunto alla tassa di soggiorno e nel caso di altri operatori può essere tradotto e declinato con altre modalità. In aula giovedì stirati troverà compatte anche le opposizioni sul fronte del no e il punto occuperà non poco del consiglio convocato alle 8.30 della mattina. Intanto, tassa di soggiorno no, i turisti continuano ad arrivare in questo luglio per nulla spaventati dal caldo, anche se da un breve sondaggio di piazza fatto stamattina pochi dormono in città. Ci sono i giornalieri e quelli che, come questo signore di Vicenza, sono venuti per una settimana in Umbria, scegliendo però di soggiornare sulle rive del lago. Gubbio perché? Gubbio, non dico per Don Matteo, ma anche, ma sicuramente perché Gubbio anche perché è religioso, ricorda comunque il santo, così assisi, quindi diciamo che è doveroso ed obbligo, dopo i motivi sono tanti. Per l'arte sicuramente, però i motivi sono tanti. Qui si discute a Gubbio sulla possibile introduzione di una tassa di soggiorno, ovvero il turista che dorme a Gubbio paga una tassa. La scoraggierebbe? Tutto sommato, se rimane nei libinti e se è usata bene, se è usata bene quindi per mantenere, restaurare, o semplicemente mantenere, ci può stare.